11 ottobre ricorrenza di san giovanni ventitresimo preghiera papa buono proteggici e salvaci dal male figlioli tornando a casa troverete i bambini date loro una carezza e dite questa è la carezza del papa troverete forse qualche lacrima da asciugare abbiate per chi soffre una parola di conforto dite che il papa è con loro queste le parole di uno dei papi più amati della storia della chiesa cattolica papa giovanni ventitresimo santo da molti anni che si chiamava angelo giuseppe roncalli nacque il 25 novembre 1881 assotto il monte in provincia di bergamo e morì il 3 giugno 1963 in vaticano la sua memoria si onora il giorno 11 ottobre di ogni anno egli è patrono di valsamoggia ed è anche il protettore dell'esercito italiano le sue reliquie sono conservate nella basilica di san pietro in vaticano ecco a tutti voi una splendida preghiera da rivolgere al papa buono affinché possa intercedere per noi e ottenerci la grazia potete recitarla al mattino e sera nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen dio onnipotente ed eterno oggi ci doni come esempio da seguire il beato giovanni ventitresimo tu che lo scegliesti per essere tuo vicario in terra servo umile e docile che aspirò a grandi ideali non per sé ma per la chiesa a lui affidata concedici di diffondere nel mondo quella fiamma di carità cristiana che lui per primo sperimentò papa giovanni tu sei il segno tangibile della bontà di dio verso gli uomini aiuta i nostri sposi a che siano fedeli alle promesse matrimoniali sostienili nel vivere appieno quel grande dono che dio stesso gli ha dato che è l'amore possano essere sprone alla condivisione e alla solidarietà per i loro figli ricordando che c'è sempre qualcuno più bisognoso aiuta i nostri giovani nel loro discernimento vocazionale insegna loro ad amare dio e il prossimo come gesù ci ha amati infine proteggi tutti noi che per tua intercessione chiediamo a gesù di guidarci nel camminare sulla retta via per giungere un giorno alla santità nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen